La moneta da un euro che ha fatto il suo esordio in Croazia raffigura la cuna, martora in croato, ovvero l'animale nazionale del paese che entra ora ufficialmente nell'euro e nell'area Schengen. Sale così a 20 il numero degli stati membri dell'Unione Europea che utilizzano la moneta unica. La cuna è il nome dato all'ex moneta ufficiale croata per rispettare la tradizione che voleva le pelli dell'animale usate come unità di scambio. Grazie.